Ciao, io sono Francesco, benvenuto e benvenuta a questo mio video sul mondo delle api. Che cosa vedremo in questo video? Lo divideremo in due, una parte un po' più teorica e poi invece quella pratica dove andremo sulle casse. Nella prima parte vi descriverò il fenomeno della famiglia fucaiola, quindi vi dirò che cos'è una famiglia fucaiola, perché succede, come prevenire che questa cosa accada, come riconoscere una famiglia fucaiola e poi che cosa fare nel caso in cui vi dovesse succedere a voi. Sigla! Cos'è una famiglia fucaiola? Una famiglia fucaiola è una famiglia che ha perso la sua regina, che ha provato, questa famiglia ha provato a rifarsi la sua regina, ma c'è stato un fallimento e di conseguenza la famiglia rimanendo orfana per lungo tempo, a quel punto non potendo proseguire la sua esistenza senza una regina, succede che alcune api diventino api figliatrici. Api figliatrici cosa vuol dire? Che prendono il posto della regina. Come sappiamo le api non sono feconde e quindi anche se si attivano la produzione delle uova, produrranno delle uova che sono apolidi, dando vita a una colonia esclusivamente maschile. Ovviamente dopo qualche tempo la famiglia è destinata ad estinguersi. Allora, perché succede che una famiglia diventa fucaiola? Chiaramente succede nel momento in cui una famiglia perde la propria regina, tenta di rifarla, la regina nuova non va a buon fine e quindi le api rimangono per un lungo periodo senza una propria regina. A quel punto succede che le api prendono iniziativa, le api operaie, e alcune di queste possono diventare figliatrici. Figliatrici vengono cominciate ad alimentare api appareale e di conseguenza cominciano a deporre le uova. Le uova che deporranno saranno maschili, esclusivamente maschili, pur avendo queste api figliatrici l'alveare è comunque destinato all'estinzione. Come possiamo prevenire il fatto che la famiglia diventi fucaiola? Prima di tutto dobbiamo accorgerci che la famiglia è diventata orfana, che quindi la regina non c'è più. Facciamo un'ispezione nella cassa, ci accorgiamo che non vediamo la regina, ci rendiamo conto che l'alveare, che la famiglia è molto agitata, ventilano molto, le api sollevano spesso l'addome e mostrano il posteriore, comunque sono anche molto irrequiete. Bisogna verificare a quel punto se all'interno del nido esistono ancora delle uova oppure delle larve appena nate. Nel caso in cui non ci fosse questa situazione dobbiamo intervenire. E come facciamo ad intervenire? Dobbiamo aggiungere all'interno dell'arnia un telaio preso da un'altra famiglia contenente delle uova sicuramente e poi delle piccole larve in modo tale appena nata il terzo giorno e poi eventualmente sullo stesso telaio un pochettino di covata matura. Come riconoscere se a questo punto una famiglia è invece diventata fucaiola? Quindi tutte le azioni che abbiamo fatte non sono andate a buon fine, purtroppo la regina non si è rigenerata e quindi le operaie cominciano a fare la deposizione delle uova. Spesso e volentieri non c'è una sola operaia che è diventata figliatrice. Cominceranno a fare la deposizione delle uova, ma sarà una deposizione disordinata. Succede che all'interno delle celle vedremo covata, pensiamo che tutto quanto sia a posto, in realtà magari all'interno delle celle dobbiamo verificare che ci sia un solo uovo, perché essendoci molte figliatrici, spesso e volentieri all'interno della cella troviamo più di un uovo e vi farò, magari vi allegherò una foto. In più i telai del nido risulteranno essere costruiti in maniera strana, disordinata, molte celle da fuco e sappiamo che la cella del fuco è più grande, quindi si riconosce da una cella di una femmina e a quel punto ci rendiamo conto che la nostra famiglia è diventata fucaiola. Che cosa possiamo fare nel momento in cui ci siamo veramente resi conto che la famiglia è fucaiola? Abbiamo due soluzioni in questo caso. Abbiamo la soluzione manuale che adesso vi descriverò e poi una soluzione più cruenta. Sono due linee di pensiero completamente parallele. Quindi la prima soluzione si basa sul fatto che lapi figliatrici, essendo deputati a questo punto alla deposizione delle uova, sono alimentati a pappa reale, quindi crescono in dimensione, il loro addome si gonfia e secondo questa teoria non sono più preposte al volo, nel senso che non hanno più la capacità perché sono appesantite. Questo ci dà questa soluzione operativa. Si prende la cassa dalla propria postazione in cui è, si allontana, almeno una ventina di metri, a questo punto si apre, si rimuovono tutti i telai che ci sono all'interno del nido e si appoggiano, si appoggiano accanto. A questo punto la cassa vuota, si prende, si ribalta e si svuota completamente. Una volta che è vuota, la prendiamo e ci spostiamo di ulteriori 10 metri in un'altra direzione. Andiamo a prendere i telai una alla volta, li svuotiamo da tutte le api, in modo tale che non ce ne sia neanche più una, ogni telaino deve essere perfettamente pulito soltanto, e li andiamo a riposizionare all'interno della cassa nella stessa sequenza in cui li abbiamo trovati. Questo che cosa fa? Fa sì che le api figliatrici, che a quel punto, come abbiamo detto, non sono capaci di volare, non hanno la facoltà più del volo, rimarranno a terra, rimarranno a terra, incapaci di ritornare alla cassa. E quindi, svuotando i telaini, riandandoli a porre alla cassa, queste api le perderemo. Prendiamo a quel punto la cassa riempita nuovamente e la andiamo a riposizionare esattamente nel punto in cui l'abbiamo presa all'inizio, in modo tale che le bottinatrici che sono in volo praticamente non si accorgeranno neanche di questa cosa, torneranno alla propria cassa e non avranno nessun problema. Le api che abbiamo scosso dai telai dove abbiamo fatto l'operazione, quelle che sono in grado di volare torneranno alla propria cassa, mentre le figliatrici rimarranno a terra e non potranno più tornare alla cassa originaria. A questo punto prendiamo una regina feconda, la andiamo a mettere dentro la cassa, chiudiamo e lasciamo la cassa tranquilla per una settimana, in modo tale che le api possano sentire il ferormone della regina nuova, quietarsi, non dare più sviluppo ad api figliatrici e quindi la regina viene accolta e la famiglia l'abbiamo recuperata. La seconda soluzione prevede l'eliminazione della cassa? Si basa su un presupposto completamente diverso, che le api figliatrici siano comunque in grado di volare perché comunque alimentate bene, perché comunque sono operaie e di conseguenza anche erano deputate al volo e quindi tutta questa attività che noi avremmo fatto nella prima soluzione di sviluppamento sarebbe inficiata dal fatto che l'ape poi figliatrice tornerebbe comunque all'interno del nido causando la morte della regina che abbiamo messo appena dopo aver fatto l'operazione. In più c'è un altro rischio molto grave, che queste api figliatrici quando cercano di tornare all'interno della propria cassa possano derivare su altre casse, e quindi andare a entrare in una cassa limitrofo e causando lo stesso problema che abbiamo avuto nella nostra originaria. Genererebbe una nuova famiglia fucaiola. Io mi sono trovato in una situazione di avere una famiglia fucaiola proprio il primo anno e ho seguito il primo procedimento, però con un'accortezza. Io ho portato la cassa in un luogo lontano, a tre chilometri di distanza, ho fatto tutta l'attività che vi ho descritto al punto primo, non c'erano altri apicoltori in quella zona, di conseguenza le api figliatrici o tornavano nella mia cassetta oppure si sarebbero perse e quindi non avrei neanche causato danni a altri apicoltori. Io così ho fatto e ho risolto il problema. Chiaramente quell'anno non mi ha fatto produzione, però comunque poi me la sono portata avanti in una famiglia che dovrebbe essere, se non mi ricordo male, quella azzurra, quella azzurra lì. Quindi vedete voi ragazzi, io vi ho detto quali sono le due soluzioni. Adesso vanno alle ciance, teoria finita, andiamo a fare una visita a qualche cassa. L'altra settimana abbiamo fatto la stimolazione. Adesso andiamo a vedere gli effetti che ha avuto la stimolazione sulle cassette che abbiamo alimentato. Quindi togliamo il coperchio sempre e posizioniamolo qui di dietro. Togliamo anche in questo caso il coperchio superiore e vediamo un attimino il nutrimento. Ok, eccoci qua. Hanno terminato completamente lo sciroppo, non ce n'è più. Quindi vediamo che qui dentro dentro il coperchietto ci sono ancora. Cosa facciamo? Andiamo a scalzare leggermente qui perché c'è... Andiamo leggermente a scalzare il coprifavo, questi roll, il nutritore, questo qui è. E diamo una sbuffata. Ecco fatto. Vediamo che sono rientrate. Ce ne sono tante qua. Togliamo sempre il diaframma. A questo punto io gli do un'altra sbuffiata. perché le voglio veramente mansuete e tranquille. Andiamo a vedere. Qui abbiamo una covata fresca. non è particolarmente grossa come covata ma c'è. Questo esterno in più hanno depositato un po' di sciroppo all'interno di alcune celle. L'ho visto da regina ma solitamente la regina è nei telai più interni di solito. Ok. Le appine con la cera creano questi ponti tra telaio e telaio che è difficile poi far scalzare più c'è la propoli. Ecco, questo qui è già è un telaio di covata opercolata molto più esteso. Non vedo la regina. Qui potrebbe esserci anche se questa opercolata di solito non è presidiata dalla regina. Ah no, eccola qua, guardate. Eccola qui. Ecco qui la regina. Non so se si vedrà. Vabbè, io provo. Poi dopo al limite. Quindi qui troviamo quindi covata opercolata e covata opercolata con scorte. Non vedo uova. Purtroppo le uova bisogna avere buon occhio. Però qui regina c'è regina azzurra quindi questo qua è il nucleo dell'anno scorso fatto io la regina è mia. Ok, eccoci qua. Qui c'è invece una covata un po' più piccolina però è più recente più fresca perché è più chiara. Non so se si vedrà il colore la differenza ma speriamo. E di qua cosa ci abbiamo? Ok, di qua ci abbiamo parecchie uova. Beh, direi che questa famiglia va bene. Io non vado oltre. Diciamo che su questa famiglia l'effetto della stimolazione c'è stata. Probabilmente l'unica azione che farò su questa famiglia sarà quella di andare a mettere un escludiregina e mettere su un melario. Lascerò produrre questa famiglia in questo polistirolo quest'anno. spero che veramente questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito come al solito mi sono divertito a visitare le mie api mi sono divertito a raccontarvi la mia esperienza. Ricordo sempre che ovviamente è tutto quanto basato sulla mia esperienza e sui miei studi che ho fatto a titolo del tutto personale. potrei aver detto delle parole che non sono perfette al 100% o potrò aver fatto degli errori mi raccomando ragazzi se avete dei consigli o dei commenti o delle indicazioni da darmi oppure volete volete darmi la vostra soluzione io sono ben pronto ad ascoltarvi e magari mettere anche in pratica i vostri consigli e poi magari farò un video dicendo guarda Giuseppe Giuseppe mi ha detto di fare questa cosa io l'ho fatta e ha funzionato in effetti mi raccomando diventa una peccoltore I want you